Il centrodestra sperimenta il laboratorio Abruzzo per proporsi in modalità coalizione unita, nel nome del candidato alla presidenza della regione Marco Marsilio. Marsilio è intervenuto oggi a Chieti a sostegno di Carla Di Biase, assessore al Comune e candidata nella lista di Forza Italia. E a Chieti a rappresentare Energie per l'Italia, che non ha candidati ma sostiene il centrodestra, è arrivato anche Stefano Parisi. Pensiamo che il centrodestra debba governare l'Abruzzo perché ha una grande potenzialità sia di consenso popolare che di persone capaci di governare bene. Siamo qui proprio per presentare Marco Marsilio, che è un politico di esperienza ma anche una persona di grandissima qualità umana e professionale. Carla Di Biase, che è la nostra candidata nelle liste di Forza Italia, serve tornare ad avere persone brave, di esperienza e di qualità. Crediamo che il centrodestra possa rinascere soprattutto se ha una forte presenza liberale, popolare, moderata. Non crediamo che il centrodestra guida radicale, populista, possa veramente risolvere i problemi del Paese. E crediamo che questo banco di prova che c'è qui in Abruzzo fra quattro settimane sia un banco di prova per riportare a rigenerare un centrodestra di governo. Questa è la proposta che stiamo presentando ai cittadini ebruzzesi, una proposta di governo credibile soprattutto, che già nelle altre regioni in cui governa il centrodestra ha dato prova di buoni risultati. Ci sono regioni come quelle del nord Italia che da decenni sono governate dal centrodestra e i cittadini continuano a rinnovare la fiducia. È evidente che quella ricetta di governo funziona e noi terremo anche conto delle buone pratiche che nel resto d'Italia sono state sperimentate positivamente per fare dell'Abruzzo un'eccellenza, farlo tornare ad essere il locomotore del centro-sud, farla tornare ad essere una regione centrale nelle assi di sviluppo strategici nazionali. e non più una regione dimenticata.